L'economica non ha conseguenze solo sui conti domestici, mette in discussione ruoli, capacità, portando a depressione, atteggiamenti aggressivi, violenti, come dimostra l'esperienza maturata in questi anni dalla Casa dei Diritti di Milano. La meraviglia è una scala di luce. Scienza, teatro e cinema, linguaggi diversi per affrontare il tema della disoccupazione che crea, oltre alle conseguenze economiche, gravi conseguenze fisiche come aggressività, violenza e depressione. Una soluzione sta nel modello Caring Angels. Le persone hanno dentro di sé le risorse per rimettersi in piedi e devono essere trovati i modi per riuscire a stimolare proprio queste risorse, ma che ci sono. Le risorse non arrivano dall'alto, le risorse partono e devono partire dal basso. Caring Angels è un modello clinico e sociale che si fonda su questi concetti. Il convegno alla Casa dei Diritti di Milano dove ogni giorno arrivano decine di richieste di contributi a sostegno del reddito. Noi tentiamo di affrontarlo in un modo creativo, costruendo reti di solidarietà, mettendo in gioco tutte le risorse possibili per cui non solo gli enti locali, ma l'associazionismo, il volontariato, l'impresa. Il cinema è uno dei linguaggi usati per affrontare il disagio della disoccupazione. Presentato il teaser di Pane dal cielo, che parla dei senza tetto di Milano. Siamo andati nei vari dormitori a intervistare tante persone straordinarie che sono in quella situazione e si sono messe in gioco e si sono fatte riprendere proprio perché hanno capito la buona causa del film.